In mezzo alla gente, per le strade, per le piazze di Sicilia, nei luoghi di lavoro, in mezzo alle persone reali, quelli che vivono i problemi quotidiani, che non si resegnano all'idea di una Sicilia che possa tornare indietro, annullando il lavoro enorme che abbiamo fatto in questi anni di cambiamento. Abbiamo trovato una Sicilia nel disastro, l'abbiamo portata avanti e dobbiamo andare avanti, fianco a fianco, con i giovani, con le donne, con i disoccupati, con gli imprenditori che non pagano più il pizzo e non lo vogliono pagare, con quelli che sono stanchi di subire, con quelli che ancora non riescono a trovare lavoro in un processo di sviluppo che si sta avviando e deve continuare. Mollare in questo momento sarebbe la cosa più terribile. Io non mollo, sono in campo, siamo in campo, siamo in campo in tutta la Sicilia con le liste del megafono Crocette. Io sono candidato a Palermo, Messina, Catania, capolista, per dire che io mi spento in un progetto insieme al Partito Democratico, insieme alle forze del centro-sinistra, che parte dai risultati raggiunti e vuole raggiungere nuovi traguardi. Il traguardo di una Sicilia bella, pulita, una Sicilia fatta di gente perbene, onesta, che non vuole che i vecchi potentati che hanno veramente distrutto la Sicilia possano ritornare, che non vuole che la Sicilia si consegni alle avventure. Vogliamo una Sicilia, la Sicilia che sta cambiando, quella che vede incrementare il turismo in tre anni quasi il 50%, la Sicilia che ha fatto negli ultimi due anni 75.000 posti di lavoro, la Sicilia che ha fatto 3,6% di pille, il doppio della media nazionale, la Sicilia che ha risanato il bilancio della regione quando era su fallimento totale, la Sicilia che spente i fondi europei quando non li spenteva. Allora, con coraggio, avanti, insieme, tutti insieme, insieme, io vi chiamo a questa mobilitazione straordinaria che dobbiamo fare, tutti quanti, per non tornare indietro e per andare avanti, con le liste del megafono lista crocetta in tutta la Sicilia e se mi volete sostenere a Palermo, Messina e Catania sono personalmente candidato. Vi abbraccio, vi voglio bene, la Sicilia e i siciliani nel cuore.